spazio bianco camere con cultura e una piccola struttura ricettiva extra alberghiera ubicata in centro storico ad ivrea spazio bianco è nato dall'idea dei proprietari di casa che con i loro contatti nel mondo artistico e creativo volevano regalare un uno spazio bianco da colorare con le opere dei numerosi artisti ed artigiani locali ma non solo trattasi di sei camere tematiche che secondo noi rappresentano al meglio il canavese questo magnifico territorio e che spaziano dal carnevale di ivrea con la sua battaglia delle arance alla natura alla verde natura della serra morenica per poi passare alla olivetti il nostro passato la storia di ivrea e la camera dedicata a giuseppe giacosa quindi tutto ciò che è stato scritto da quest'autore in particolare per cucini nella torre in fondo alla struttura di quella che una volta era una centrale elettrica le due camere sono state dedicate ai castelli del canavese e salendo le scale quasi come per percorrere i sentieri tra i vigneti si raggiunge la camera dedicata all'erbaluce il nostro vino bianco di ocg locale spazio bianco è sempre aperto per accogliere i numerosi ospiti che passano a trovarci da tutta europa ma anche dal resto dell'italia e abbiamo quindi il piacere se lo gradirete di accogliervi in questo spazio bianco in modo che anche la vostra presenza possa colorare questo contenitore e soprattutto dal punto di vista artistico e creativo per cui anche i giovani artisti sono invitati a farci visita per poter definire con loro l'eventuale esposizione che si fa poi qui all'interno di spazio bianco camere con cultura grazie a tutti